ciao ragazzi oggi siamo qui io e valerio diciamo un gioco di calcio con le pistole aspetta che devo abbassare il volume perchè ti senti bassa la voce aspetta un attimo aspetta un attimo sottotitoli comunque ragazzo per gioco e' un porco giuto mi hanno cacciato il per me polizzo vabbè hanno di uscire aspetta aspetta vedo no vabbè mi hanno bannato probabilmente mi hanno bannato comunque esci e ho trovato uno italiano aspetta 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 comunque ragazzi spiego questo gioco non mi consiste questo gioco consiste in cioè che noi e calcio scala ho detto tutto il calcio solo che invece di calcio calcio invece di usare i piedi si usa una pistola vabbè non è sicuramente 8 ho trovato uno italiano se ti studi a riprovviso fanno piu 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 ma sei uscito porco dio vedete sei trovato sempre in Italia eh oh se questo gioco smette di comunque si chiama simri.com ita super bowl trattino ita eh segno strano 1 allora simri.com simri.com oh io lo chiamo segno strano va bene ma si chiama segno 2 ahahah segno strano 1 vabbè comunque io sono entrato si sono entrato pure io però sono blu eh anche io sono blu comunque ragazzi questo game io e te contro 2 eh si siamo 2 contro 2 ragazzi comunque come dicevo questo gioco si chiama supra bowl diciamo che è una sorta di calcio grazie a cazzo stanno giocando solo loro ehm questo questo gioco si chiama supra bowl è una sorta di calcio cioè simile a calcio solo che perché io non sono entrato ok sono entrato e in pratica questo gioco si basta segnare sulle squadre avversarie però perchè? sei visto il mio film eh si ma grazie a cazzo vabbè 3 contro 2 non so già fare si vabbè comunque come dicevo vabbè chi li fa vabbè bu come dicevo questo gioco è una sorta cioè una specie di video gioco che riguarda il calcio e la palle minchia mi hanno colpito a volo comunque come dicevo questo questo gioco riguarda è simile a calcio quindi le come stanno le cose qui oh la palla è mia no palo minchia cosa ti sei mangiato comunque come vi spiego cosa consiste in questo gameplay in pratica noi di domenica alle 8 di sera mettiamo dei video che riguardano giochi multiplayer online ovvero tipo supra supra bowl supra bowl non ci sarà non è una serie o cose così cioè sono partite diciamo tipo casuali sono video giochi partite oh cosa mi sono mangiato cosa mi sono mangiato no è grande è è no 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 stiamo dicendo no stiamo dicendo no ora ora sono accorti una cosa cosa un po' anche che c'è ragazze una bestia sto ragazzo questo posto io ho un buco un po' un po' come ragazzo sto gioco non ci so giocare come ho detto di domenica noi mettiamo i suoi episodi specchi li abbiamo chiamati episodi speciali della domenica ovvero giochi partite casuali dove cazzo la palla eh partite casuali di questo gioco casual chocco v comunque sto combinando un sacco di guai eh vabbè hai stato degli anni? lol questo scritto lo io non so fa un cazzo dattano team questo pretende che noi siamo Gesù Christi la prima parte hai rotto non segnalo perché non segnalo e che non deve segnalo aspetti per favore ricordi un posto ritardato mentale sabi la passata d'ordine non è passato super vabbè questo è il nostro team no? Gesù dove sei? Gesù? oh che vuota c'è eh ma va la rosa sono nerdoni del giorno oh so però c'è qua mangià oh sì sì, oh sì sì, ma che culo ha mhm, semicile culo esagerato di domenica eh vabbè, su palotto però, sicilissimo comunque come dicevo, questi sono episodi speciali della domenica dove noi passa ho buttato davanti comunque questo è l'episodio molto bello, ti chiamo 5 0 7 eh sì, infatti ho visto quella cosa ho visto quella valla cosa ha fatto guarda la piccola questo è bellissimo orso palotto orso palotto se tu stai con i rossi sì ma loro convinti che loro sono pro, capito? questa è la cosa più divertente la cosa più divertente sto facendo hai visto la palla ma come fanno a fa queste cose? giocano solo a questo gioco 24 ore su 24 ma comunque qui ci voleva anche arcanto su questo qui in questa avventura di tiri casuali sì vabbè questi qua poi prendo la palla la cosa divertente che loro si credono cioè questi giocano da 20 anni secondo me ci stanno un po' distruggendo perché stanno giocando 3 contro 2 è un abuso questa partita tra cui comunque come dicevo questi sono episodi speciali della domenica che noi giocheremo eh ho preso una botta in testa no vada la mano 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 vada è un po' difficile messaggio aspetta, vado a tirare io, tiro io hai visto? va, tiro io, tiro io ma perchè segnali segnali segnali? perchè segnali 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 questo che continua a dire kick off mi hai visto la palla? ma hai visto quella palla cosa ha fatto? ma non so giocare hai visto se faccio io così oh mio mio hai visto che gollo che ho fatto? ho imparato questa mossa nella scorsa partita cioè quella prima partita che ho fatto tu perchè hai fatto partite? no sei un coglione lascia a me il tiro iniziale che io segnali sì sì certo da una volta sì io segno eh dobbiamo andare in contropiede si incontropiede sto cazzo ci vanno 1 1 1 1 1 1 1 1 però questi fanno il miracolo di genocchio bambino abuso 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 istantaneo e ciao non c'è non c'è non c'è non c'è senza farlo apposta ok no andato a difendere questa cassa di bambino l'ho presa 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 minchia minchia potenza lascia a me lascia a me lascia a me lascia sei un coglione da una dice quanto sei coglione si meno male oh l'importante è che tu lo sappia è da te è da te ora ci abbiamo franci in squadra finalmente ora possiamo recuperare la nostra grande partita che stavamo facendo questi multiplayer che risa questo ma questo fa il miracolo di gesù bambino e infatti lasciate quella cazzo di palame please toglietevi 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 ma questo è scemo questo è scemo testa di cazzo mamma mia testa di cazzo eh eh io non lo so voi siete idioti no 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 si l'ha mandata al porco di eh vabbè aspetta un nuovo tutto ciao ciao a questi sono merdoni del giorno no 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 approfittate un approfittatore questo io lo so questa è non dirla a me perchè loro non vedono cosa ma sta parlando e ti doggi davanti al cazzo no 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 sei coggiore sei coggiore ma io stavo per segnare il cazzo stavo segnando si si vabbè wow questo è Gesù Cristo è un pro è un pro del giorno fai di pro con noi di qui fai di giù 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 ragazze nella nostra squadra abbiamo il pro ho sconato non c'è il bravo di cantare ma sto gioco è un po' complicato gli episodi domenicali sono abbastanza fighe non c'è vero valla mia valla mia valla mia valla mia valla valla che tiro da gay bravo bravo albis ti bomba valla albis i film di un buon però per quale un po' difficile giocare a sto cazzo di gioco bene romano in quello francese no erano più simpatica francese fredda italiani del cazzo in varietà su lombo paresità di stanno parlando io voglio dire impariamo e poi questi occhi critico perché io dico un bomber dia orso balosso se tu vedi questo video l'unica cosa brutta è che in questo gioco stanno solo coglioni questa cosa brutta di sto gioco oh cazzo cazzo l'ho rosso coglioni oh vabbè palla hai visto che ha fatto la palla il mio colpo che vola non ho mai oh cazzo bongo bongo signar che pasquale l'hai fatto? la lasciava a meno faceva il pallone il solito pallone ma da che? stati fermo comunque non prenderla e a chi si parla, visci però che c'è un po' c'è un po' noia ma hai visto che ha fatto ma chi è mortato tu mi hai buttato? no non ti ho buttato io non ti posso mai buttare ci siamo una stessa squadra c'è è un idiota segna 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 non so dove l'ho buttato in qualche posto lontano in qualche posto lontano vabbè c'è un loro che non lo pavano dov'hai bisciato? mado ma noi siamo pro cattolino sinistro in alto capo 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 hai visto questi lagging proprio? rangy muoviti rangy non dormire dai che cazzo hai fatto? hai bloccato il tiro? non lo so non lo so non lo so mamma mia mi fanno bello ma comunque sto sto giochè abbastanza difficile cioè difficile ma tanto vabbè difficile ma dovrai giocare con questa gente di gioco è difficile con questa gente ti esaurisci ma ti ti basta ma parlai sul muro sul muro vabbè si premi il tasto sinistro non c'è si ma sta a porta è più difficile quindi è inutile quindi lasciamo stare questo tirato eh va beh ti stai con l'un vabbè 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 ecco ecco la palla che vuole in aria da gesù è nostra la palla grande basta basta coglione ma perché ti sei ma questa è idiota vabbè 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 questa partita trovava 20 minuti quindi aveva registrato per 20 minuti per coppa tua perchè mi ha fatto bannare dai francesi io sì tu no sicuro mi mangi voglia rap vabbè 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 per me t Styles 6 tour x q abuses primordial madonna cort sind Ragazzi, questa è la dimostrazione, quello che faremo di domenica, episodi, cioè, non facciamo nessuna serie, più che altro, cioè, registriamo episodi di domeniche speciali che giochiamo a videogiochi online, tipo questo. Questo episodio si intitolerà Abuso Italiano. Abuso Italiano, probabilmente. Comunque, vabbè, abbiamo mostrato quello che vogliamo fare la domenica. Questo sarà il nostro primo, vabbè, il nostro primo video, quindi non è che sa cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo detto e cosa faremo in questo video, bla bla bla. Però una prossima volta ci organizzeremo meglio, speriamo di trovare altri videogiochi online simili a questo, cioè, no, che parlano solo di calcio. A qualcos'altro? No, cazzo, ha segnato così a culo. No, che culo è, no, che culo. A 21, 12, ci stavamo 5-0. No, non ha segnato. Ho fatto doppia e taglio, beh. La valle mia. Sì, vabbè, è su tu. Ma io te l'ho passato. Eh, io l'ho passato. Però non so dove. E' giocato, mi lagga, no. Eh, ma mi sta l'improvviso. Scusate, vabbè, si vede che italiano. Ormai gli italiani laggano ovunque. Comunque ragazzi, visto che stiamo perdendo, non ci sarà la rimonta. E visto che questo è solo un video, diciamo, per mostrarvi quello che vogliamo fare di domenica. Ci fermiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio di un altro videogioco. Cioè, poi vedremo cosa. E speriamo che si aggiunga anche Arcanthos. Perché questa settimana non poteva registrare insieme a noi perché aveva un problema. sempre suoi e non poteva stare con noi a giocare. Quindi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio qui e diamo un'autobica l'autobica. E vi saluto anche Alvis. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!